Allora, buon compleanno, cosa c'è? Tutto lì? Baita, bello Baita, sembra un nome brasiliano. Ma c'è una canzone che possiamo fare per gli auguri, non abbiamo niente tra le nostre cose? Cosa c'è? Ma no. Andiamo con me, sono innamorato di tu, Baita. Baita, bello Baita, bello Baita. Baita, bello Baita. Ma non c'è mai, tutto morreu. E mi sono innamorato, ma di tuo marido. Fazer tutto dentro, come a vita diz. E mi sono innamorato, ma di tuo marido. E mi sono innamorato. Ma di tuo marido. Viene sempre vista. Tu chi è meglio. E mi sono innamorato. Ma di tuo marido. Se è un marido, se è un marido tema, mi senti sempre felice. La vita sulla cresta dell'onda sempre. Lei, la sua storia è partita con De Andrè, ha scritto per i più grandi. Permina, ma dove si trovano? Dove si trova il coraggio? Dove si trovano le occasioni? Come nasce una canzone? Ma come nasce una canzone? Come nasce Cristiano Malgioglio, forse vorresti dire. Se ci dà la ricetta, io mi promuovo per farne nascere subito un altro. Ma io penso che la mia vita è stata fatta di molti sacrifici. E se duro da tanto tempo e piaccio a molte generazioni, ci sarà qualcosa di speciale che non lo so neanche io, sinceramente. Non lo so neanche io. È un personaggio completo, sensibile. Quello se sono troppo sensibile. Ha una penna invidiata da tutto il mondo. Sono sensibile, ma sono anche una iena. Una iena buona. Nel senso buono. Una iena buona. E io adoro, io amo molto il mio pubblico, io sono molto felice. E sono contento che stasera siete venuti qui per me. Generalmente sono abituato a vedere una folla immensa, ma io sono molto felice di avere queste persone. Così anche se non sono 10.000 persone, mi sento come se fosse a casa mia. Ecco, è come se fosse a casa mia. Noi siamo contenti che lei abbia scelto qua per ripartire. Grazie per avermi invitato, veramente. Ma noi le invitiamo subito, no? Per Eurovision. Ecco. Le invitiamo subito. Adesso, siccome loro vogliono ballare, tu parleresti fino a domani mattina, come lo so. Allora, c'è un brano molto bello che io ho lanciato l'anno scorso. Purtroppo non ho avuto questa grande fortuna per il semplice fatto con il lockdown. Non ho promosso, non ho fatto la promozione. È un pezzo contro ogni tipo di discriminazione. Un pezzo molto particolare, bello, che si chiama Tutti nel Iran. È della storia, è della storia di questo uomo. Si vede davanti allo specchio, si veste da donna, va per strada e vuole vedere che effetto fa alla gente. Io questo stasera ve lo dedico perché il pezzo è molto bello. Andiamo pure, grazie. Voi ballate pure, eh? Forse è volerito, lo che tu querieras per il cristiano. E mi sorprengame, io me vestite, reina, me puse pafones, me pide la preghia. Mi camminata a la puerta che scusa e gritarme, però buscate la schia, non puoi depararmi. Mi vivere la noce, chiamolo, era oscura e la te lente muoverà. Se lui mi scusa, mi butta una rosa, mi dice di amarmela e poi non lo fa. Ha un corpo attraente, mi spacca la mente, profumo d'Oriente, il peccato non lo sa. E però venivano, 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 alcune sono in pia, però al final, però al final, però al final, todos mi amavano.